Giornalisticamente parlando non si dovrebbe fare, ma per una volta merita partire dalla fine, ovvero dal fatto che la chiusura della manifestazione sarà affidata niente meno che a José Carreras. Dopo i felici esiti della prima edizione di Lucca, i giorni di Puccini nel 2014, primo anno del festival in occasione del novantesimo anniversario della morte del maestro lucchese, la fondazione Puccini, il comune di Lucca e il teatro del Giglio consolidano il rapporto con la figura di Giacomo Puccini. La seconda edizione del festival diventa così appuntamento fisso dei programmi culturali della città dedicati al grande maestro. Il festival trova la sua naturale collocazione a Lucca, città natale di Puccini, che raccoglie le leedità del maestro e la proietta in una manifestazione con eventi di respiro internazionale. Il festival si apre il 20 novembre e lega, grazie al nome di Puccini, esperienze musicali varie e diverse, dalla lirica, alla musica da camera, alla musica sacra, all'improvvisazione e i jazz. La presenza di José Carreras, uno dei tre immortali, insieme a Placido Domingo e Luciano Pavarotti, si colloca nel galà di chiusura il 10 gennaio 2016. Il suo legame affettivo con Lucca è strettissimo, dato che sono di Puccini i ruoli che lo hanno consacrato a livello internazionale. Nel programma del festival, consultabile sul sito www.noitv.it, assieme a Carreras interpreteranno Puccini artisti come Daniela Dessy, Stefano Bollani, Maria Luigia Borsi, Giuseppe Gipali, il quartetto della Scala e molti altri. La vendita dei biglietti di Lucca, i giorni di Puccini, Puccini Days, inizierà il 21 luglio. I giorni di Puccini sono un momento fondamentale della vita culturale della città, lo sono ora, lo saranno in futuro, perché vogliamo che si rafforzino sempre di più e che rappresentino Lucca così come Lucca sa rappresentarsi in rapporto con la figura grandissima del maestro.